Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. A Coreno-Ausonio, fino a domenica 21 maggio, proseguono le celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione e la trentesima edizione del passaggio della guerra a Coreno e rievocazione storica della linea Gustav. Venerdì 19 a Dalvito, alle 21 presso il Teatro Comunale, la Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio presenta Radio Nostalgia, la corrente degli eventi. con Armando Cacciato, Salvatore Lacarruba, Roberto Puccio e Peppe Sferrazza. L'utile della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Sabato 20 a Priverno, presso il Borgo di Fossanova, alle 16 presso la Sala Pitt in via Sant'Ommaso d'Aquino, ci sarà la presentazione ufficiale del Cammino della Regina Camilla. A Frosinone, alle 18.30 presso il Conservatorio Licini Orefice, si terrà il concerto del trio Nuage, con Claudia Ramus al violino, Paolo Montina dal Carinetto e Stefano Diotalevi al Pianoforte, ingresso gratuito. Domenica 21 a Cassino, appuntamento con la gara podistica internazionale, corriamo verso Monte Cassino, ventesima maratonina, città di Cassino, partenza alle 9.30. A Fontanaliri, dalle 12, presso il Parco del Lago Solfatara, si svolgerà la manifestazione Pic Mix, picnic con DJ set, stand gastronomici, area Baby Park con gonfiabili per bambini e tanta musica. A Cassino, alle 20, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, l'associazione musicale e culturale Pio di Meo Onlus presenta il concerto Ave Mundi Spesse, in memoria del genetliaco del maestro Pio di Meo. Per inviare le vostre segnalazioni scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it